Arti Impianti, Costigliore Saluzzo, 30 anni di lavoro nelle fonderie alluminio nel mondo. In questo momento siamo in Italia, nello stabilimento italiano. Nel 98 abbiamo aperto lo stabilimento in Messico, nel 2013 in India. Siamo fornitori delle maggiori fonderie alluminio nel mondo. In questo momento siamo di fronte a una linea innovativa che utilizza un robot ABB per lo scarico dei pezzi e il controller ABB per la gestione completa del sistema elettronico della linea di colata. È una linea di colata per alluminio a gravità a tre banchi. È una linea innovativa come concetto perché è divisa in tre celle indipendenti in cui l'operatore può entrare in completa sicurezza. L'innovazione di questa applicazione è che abbiamo due assi cartesiani che fanno uno la colata e l'altro il ramolaggio delle anime, prelevandole partendo da un metro e mezzo distante dal banco. Questo permette all'operatore di fare la manutenzione naturale dello stampo in completa sicurezza. L'operazione di scarico è fatta da un robot 6620 dell'ABB sospeso sotto la stessa trave che regge i gantri. Il robot ha il compito di scaricare il getto quando è ancora semiliquido, quindi deve mantenerlo in posizione perfettamente orizzontale. Una volta solidificato lo movimenterà nello spazio per fare la prefinitura e poi percorsa tutta la linea depositarlo in un'area di colata e raffreddamento definitivo. Grazie.